Ora vi faccio vedere come si svolge la visita. La visita è molto importante sempre toccare il paziente, ovvero la composizione cutanea, guardare se ci sono, se c'è dell'edema, quindi se rimane la fobia, se rimane il buchino se io spingo. Vedere la circolazione è semplicissimo, basta toccare sul collo del piede, da entrambe le parti, ovviamente se io ho l'arteria che la sento uguale o dietro il malleolo abbiamo l'arteria tibiale posteriore, ben tutto perfetto. Guardo anche lo stato venoso, la presenza o meno di discomie cutanee, cioè di macchie cutanee che mi direbbero che non va bene la circolazione venosa, che però, ripeto, qui non c'è problema. Poi misuro sempre la pressione, quindi voi vedete c'è lo spignomanometro, poi visito sempre, mi ascolto il cuore, se ci sono soffi a livello delle carotidi, perché mi dice molto anche questo, si fa una valutazione addominale, poi per me è ovviamente più semplice, perché io faccio sempre l'ecografia addominale e quindi vedo già dentro, però è molto importante vedere se alla palpazione la paziente mi dice ho dolore o dolenze e già questo può essere importante. Poi faccio sempre seguire la paziente, ascolto i polmoni, sento la loggia tiroidea, quindi se c'è un ingrandimento della tiroide o l'eventuale presenza di linfonodi ingrossati e dopo anche sento se c'è una dolenzia lungo il rapido, ovvero lungo la colonna vertebrale, quindi questo ci dà già un quadro della paziente che viene poi completato con l'esecuzione delle ecografie con le quali andiamo a vedere gli organi interni che ci danno ancora maggiori informazioni. Questa è l'ecografia, l'eco color doppler per la precisione dei vasi epiaortici. Che cosa sono i vasi epiaortici? Sono le arterie che irrorano con il sangue insomma il cervello e abbiamo davanti l'arteria carotide comune che poi si diforca qui alla diforcazione nell'interna e nella esterna e dove è importante nell'eco color doppler misurare sempre le velocità di flusso in quanto sono le velocità di flusso che ci danno l'entità della normalità di un flusso. Adesso ovviamente la nostra Elena qui non ha stenosi di nessun tipo, andiamo anche a misurare quello che è, si dice, l'eventuale presenza di spessimento intimale, si va a vedere quanto misura il rivestimento interno che da Elena misura 0,83 cm, quindi va benissimo, cioè 8,3 mm, quindi va veramente bene. Ma cosa sarebbe questo l'espessimento? Se tu avessi un espessimento vorrebbe dire che la parete interna è espessita, ma poi ci possono essere delle placche che possono essere calcifiche oppure fibrotiche. Poi se tu hai delle placche, ciò non vuol dire che la presenza di placche significhi che hai meno sangue che arriva al cervello perché possono essere placche, noi diciamo, non emodinamicamente significative, cioè non hanno nessun impatto sulla circolazione. Un'astenosi comincia a diventare importante dal 60-70% in su e lì allora devi prendere le velocità di flusso, come vi ho fatto vedere prima, perché con le velocità di flusso tu determini l'entità di un'astenosi e questo è molto importante. Adesso sto facendo l'ecografia alla tiroide di Elena, lei ha una bellissima tiroide. La tiroide è una piccola ghiandolina, la principessina del nostro corpo, che se voi andate a vedere ha la forma di una farfallina, d'accordo con il lobo sinistro, l'istmo e il lobo destro e da Elena è normale. Nell'ecografia della tiroide si misura sempre il volume, quindi la pigliate in due dimensioni e ci sono ovviamente nei programmi degli algoritmi che ve lo calcolano loro, ovviamente voi pigliate le misure longitudinali, larghezza, profondità e lei ha un volume del lobo di sinistra di 3,75 cm3. E com'è? La tua è normalissima tiroide, soprattutto anche per il tipo di ecogenicità, cioè la texture, è come dire un tappeto regolare. Non è sempre così, l'ecografia della tiroide ti dà anche la possibilità di fare a volte una diagnosi, in tedesco si dice plikdiagnose, una diagnosi di colpo d'occhio, di sospettare la presenza di una tiroidite autoimmune, meglio nota come tiroidite di Hashimoto, perché la tiroide ha un'ecogenicità, ovvero un pattern ecografico completamente sovvertito, è come se fosse tutto bucherellato. Poi possiamo avere noduli, possiamo avere calcificazioni, possiamo avere cisti, una tiroide ingrandita, quindi tutto questo ci permette appunto l'ecografia tiroidea e poi valutando anche le parti molli adiacenti fino alla ghiandola sottomandibolare, ovvero sono le ghiandole salivari, se c'è anche la presenza di linfonodi patologici, perché i linfonodi ci sono, però non sono, nel caso di Elena che è sana come un pesce perché mangia benissimo e vive bene, comunque sicuramente avrà anche la genetica della sua, per carità, però non c'è assolutamente nulla di patologico. Partiamo ora per valutare l'ecografia addome, ovvero gli organi addominali. Il gel va sempre messo quando si fa l'ecografia, perché la sonda adesso... Devo alzare le braccia? Prego sì, grazie. Perché la sonda, che questa qui è una sonda convex, invece quella per fare i vasi, cioè arterie e vene, è una sonda lineare, dove significa che gli ultrasuoni vengono inviati in alto, ok? La stessa cosa dicasi anche per la sonda per fare le parti molli oppure per fare la tiroide. Mentre nella sonda convex escono, se vogliamo, anche obliqui, d'accordo? Quindi voi vedete infatti com'è il pattern ecografico, questa è dove arriva la nostra sonda, per capirci, d'accordo? Questa, se voi vedete, si muove, non so se riuscite a captarlo, comunque questa è la testa della sonda e questi sono i raggi, cioè gli ultrasuoni, che vengono emessi. Bello. Infatti ti dà un quadro sicuramente maggiore. Aspetta che mi siamo data... Ecco qua. Allora, qui riusciamo a vedere e abbiamo un approccio intercostale, cioè fra le coste di Elena. Si riesce a vedere, a parte che poi Elena è quella che noi chiamiamo una finestra ecografica eccellente, il rene vuol dire che si vede bene, cioè la visuale dei tuoi organi è bella. Ci sono a volte dei pazienti dove vedi male, dove devi farle girare a destra, a sinistra, a sedere, dove è un po' più faticoso, invece da te è stupenda. Noi qui abbiamo il rene, sopra abbiamo il fegato, la cistifelia, le vie migliari, dopo abbiamo tutti i vasi, un bel respiro profondo, frattieni tutti i vasi e poi si vede, ad esempio, andando in giù, un piccolissimo angioma, che è un agglomerato di baserelli e poi uno più grande a livello del, ad esempio, ecco che è qui, a livello del logo di sinistra. Respira pure normalmente e lo puoi andare a misurare, è poco più di 3 centimetri. Quello che è importante, ancora un bel respiro profondo, frattieni, lo si può andare a caratterizzare dal punto di vista, anche per vedere se è fortemente vascularizzato o meno, quindi mettendoci il Doppler e non è particolarmente vascularizzato. Poi, se ci sono dubbi, ad esempio su una lesione, si valuta se fare un imaging ulteriore, il respiro normalmente, un tipo, una risonanza magnetica con o senza legge di contrasto e gli conviene sempre sentire, cioè confrontarsi con il collega radiologo. Qui adesso andiamo e abbiamo... Per cui ho una domanda, posso? Sì, certo! E perché guardiamo se è tanto errorato? Perché se c'è tanto sangue potrebbe essere... No, no, assolutamente, no, perché non lo caratterizzi di più, no, no, assolutamente. Poi abbiamo il pancreas, che è come un cavalluccio marino a cavallo proprio delle vene, infatti. Poi si scende, adesso se voi vedete tutta questa nebbia e aria, questa è la orta addominale che pulsa, infatti se voi mettete sopra il color doppler, sentite la pulsatività tipica della orta addominale che arriva circa fino all'obelico, dopo si biforca e si scende fino a vedere la vescica, voi vedete questo sacchettino nero, la vescica, sotto si vede l'utero. Non se ci fossero delle cisti, diciamo così, grosse cisti, anche ovari che si vedrebbero, si vede l'utero, quindi si riesce a vedere molto, ma da sé che non può mai sostituire una visita ovviamente ginecologica, perché io devi fare quella sonda intravaginale. E qui abbiamo a sinistra la milza, questo fagiolone qui, e sotto, bel respiro profondo, e le la trattieni. E qui abbiamo il rene sinistro, d'accordo, ve lo vedete che è sempre con la parte parenchimale della parte pielica, questo è in sezione trasversa e sempre con un approccio intercostale, cioè queste sono le coste, no? Ecco, quindi se ti faccio un po' male, sono io che sto pigiando, respira pure normalmente, quindi con l'ecografia si vede molto, vedi se c'è un fegato grasso, noi abbiamo beccato due angiomi da Elena, riesci a valutare se hai un versamento ad esempio ascitico, cioè del liquido libero in addome che non deve esserci, lo becchi anche qui se ce l'hai nel Douglas, riesci a vedere praticamente fra anche l'utero e il retto, riesci a vedere comunque delle raccolte ascitiche, riesci a vedere qui abbiamo, questo è il diaframma, che questi sono i polmoni, se ci fosse un versamento pleurico, quindi ci dà la possibilità di vedere molto, molto spesso si trovano cisti ai reni, si trovano cisti al fegato che sono innocue. Poi faccio anche Ecolite, l'Ecolite è questo apparecchio che vedete qui, lo vedete, ok, così, è un apparecchio che serve per misurare la densitometria ossea a ultrasuoni, sempre sulle quattro vertebre lombari, o meglio dire sui corpi vertebrali delle quattro vertebre lombari e sui, su anche il collo del femore. Poi invece qui vedete la BIA per fare la bioimpedenziometria che valuta la composizione corporea in acqua intra-extracellulare, tutte le forme anche appunto di grasso e di massa magra e poi faccio anche ovviamente l'elettrocardiogramma, a ciò si aggiunge anche la possibilità di fare tutti gli esami del sangue.